oggi è il 19 di febbraio 2023 giungono informazioni dorate direttamente da padre sole informazioni per il nostro dna informazioni che trasformeranno il nostro dna informazioni che arrivano direttamente dentro di noi e dentro madre terra per il matrimonio cosmico per il matrimonio alchemico che attende i due soli il sole al centro della terra e il sole sopra di noi del nostro sistema solare in allineamento col grande sole centrale ma questa è un'altra storia accogliamo oggi queste informazioni e riceviamole senza che la mente faccia da ostacolo da filtro arriveranno direttamente al nostro cuore al nostro sangue che le porterà in circolo in tutto l'organismo e queste informazioni dorate dei guerrieri del sole giungono in questo momento particolare accogliamole con gratitudine e amore con questo spettacolo meraviglioso della natura che vi dedico con questo tubo di luce contenente informazione dei guerrieri del sole fa tutto parte del progetto 999 dicono i fratelli perché da esseri di carbonio 666 diverremo uomini e donne diamante 999 vi spiegherò questo concetto più avanti ma per il momento accogliamo il dono e riceviamo consapevolmente in piena coscienza queste informazioni integrandole e chiedendo al padre sole di installarle dentro di noi come un programma un software in un computer affinché potremmo entrare in quei dati criptati per altri e si apriranno realtà incredibili per noi e mentre padre sole adonai bacia il mare e il vulcano lo stromboli qui davanti a noi io vi benedico tutti con infinito amore lasciandovi ancora godere di questo spettacolo di informazioni di luce codici di luce che scendono dal cielo di luce arancio e dorata codici che io so decodificare e che condividerò anche con voi come dono d'amore ma nel frattempo lasciateli penetrare in voi perché un dono in questo periodo così difficile così duro per molti in cui si è in battaglia ma il sole splende sempre e illumina le tenebre vi abbraccio dal profondo del mio cuore buona serata a tutti la luce ha già vinto e così sia e così è e così sarà siamo in evoluzione e presto saremo l'uomo e la donna galattici che ci spetta di diritto amen grazie a tutti Grazie a tutti.